Morandini con quale spirito riparte la San Giovannese? Uno spirito positivo, abbiamo fatto un buon campionato, sicuramente ci vogliamo migliorare, vogliamo ridare ai nostri tifosi una squadra che gli dia delle soddisfazioni per quelle che sono le nostre aspettative e le nostre forze. Jacobello ha una garanzia? Jacobello in questa categoria credo sia una garanzia, ci fa lavorare anche con i giovani, a lui gli piacciono, non mette mai limiti e quindi siamo contenti. Tre volti nuovi? Sì, un centrocampista per ora è devito di 30 anni di esperienza, un difensore centrale Fanetti e un attaccante abbastanza giovane, Berlini, che ha fatto molto bene nell'ultimo campionato. Dobbiamo ancora completare la rosa, lo faremo nelle prossime settimane. Lei ha ringraziato Scoscini nel corso della conferenza stampa per quello che ha dato in questi anni alla San Giovannese? Sì, io con lui ci sono stato soltanto l'ultimo anno, però ha avuto modo di conoscere una grande persona, un ragazzo bravissimo, onesto, sincero. Le strade si sono divise ma io lo devo ringraziare anche per gli anni in cui non ci sono stato perché lui era capitano della San Giovannese e so che ha fatto molto bene tutti e quattro gli anni. Sì, lei dopo tanti anni è tornato sulla breccia. Che calcio ha trovato, che squadre ha trovato differenza rispetto agli anni d'oro? Ma è cambiato, il calcio è cambiato totalmente anche nel modo di fare le squadre, le regole. Mi sembra forse anche un po' un valore un attimino inferiore rispetto ad una volta e ci sono delle grandi difficoltà finanziarie da parte di tutti.